La Serie A è tornata allo spezzatine in occasione della diciassettesima giornata e all'Atalanta è toccato il posticipo seriale di lunedì a Bologna. Certo più tempo a disposizione per Gasperini per pensare a quale formazione affidarsi per affrontare i rosso-blu allenati da un altro suo ex allievo, Tiago Motta, che non avrà attaccanti puri a disposizione e dovrà affidarsi al 4-3-3 schierando il cosiddetto falso 9. Nell'Atalanta tutti convocati ma intanto Malinowski è pronto con le valigie per raggiungere la sua nuova squadra a Marsiglia. Musso dovrebbe rientrare tra i pali mentre De Miral e Zapata sono destinati alla panchina. Per Gasperini ampia scelta per gli uomini di fascia con Atebor tornato a disposizione e Zappacosta in crescita in aggiunta a Mele e Ruggeri. Nel frattempo Pasalic ha scalato posizioni per il ruolo di trequartista. Lukman e Oilund i candidati a formare la coppia offensiva e infine la difesa che deve ritrovare la solidità della prima parte di campionato. Mai da quando Gasperini allena a Bergamo l'Atalanta aveva subito due o più gol per quattro partite consecutive. Nella conferenza stampa della vigilia Gasperini ha comunque ribadito piena fiducia nel reparto arretrato sottolineando il ruolo di leader di Toloi in campo e nello spogliatoio. Il Bologna torna a giocare nel proprio stadio per la prima volta dopo la scomparsa di Sinisa Mijailovic e prima del calcio d'inizio le due squadre ne onoreranno la memoria insieme a quella di Gianluca Vialli che Gasperini ha definito un esempio incredibile. Per tutte le notizie vi rimando a zonamistamagazine.com